The Suicide Squad 2021, diretto da James Gunn, a tenere fuori dalla portata dei bambini. Wabalabadabdabe, bentornati su Nomamamazzo. Continuiamo a parlare dei film in uscita, finalmente sono tornato di nuovo al cinema per l'ennesima volta a vedere un altro film di supereroi, se così vogliamo definirlo. Comunque è un film dedicato a dei personaggi, dei fumetti della DC Comics. Film che ha avuto uno sfortunato prequel, che non era piaciuto assolutamente alla critica, ma che questa volta è diretto da James Gunn, lo stesso regista di Guardiani della Galassia, volume 1 e volume 2, e altri film di cui poi vi accenerò nel video. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che fanno parte di una squadra suicide, e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso del film, di questo video e se avete preferito The Suicide Squad o Suicide Squad del 2016. Mi raccomando, se fate spoiler lasciate un po' di spazio, così non facciamo scoprire la trama alle persone che non lo hanno ancora visto. Io personalmente farò del soft spoiler, cioè vi racconterò un pochino come incasellata la trama all'inizio del video e poi quando mi darò lo spoiler selvaggio vi avviserò. Ok? Allora, The Suicide Squad 2021, diretto da James Gunn, come ho detto all'inizio, non è adatto ai bambini se per caso avete dei dubbi. Lo si può intuire fin dalle scene iniziali, il punto è che arrivano così prepotentemente nella pellicola che non avrete il tempo di tappare gli occhi ai vostri pargoli. Quindi mi raccomando, film di supereroi, film per bambini, non sono sempre la stessa cosa. C'è ancora questa poca conoscenza in Italia di questi due mondi che non sempre si associano. È un film molto esplicito, è un film molto splatter, è un film esplicito nelle parole, nei dialoghi, che sono molto adulti, sono un umorismo da adulto, anche da adolescente per carità, ma di certo non per un bambino, e sono esplicitamente splatter. Un James Gunn alla massima potenza, un James Gunn che non è vincolato dai canoni Disney, dai canoni Marvel Disney, un James Gunn che qui ha fatto il cavolo che voleva. È un film che parla di cattivi, perché si sa, se non lo sapeste, la Suicide Squad è una squadra di carcerati che non sono in una cella così, sono in un carcere di massima sicurezza, quindi gente che ha commesso crimini tra i più efferati, sono stati selezionati da Amanda Waller, che è un'agente governativa, senza scrupoli, che li comanda, li usa per delle missioni, appunto, suicide, dove non c'è la certezza che si ritorni alla base, e li comanda mettendo loro nella loro testa un chip che, eventualmente, se decidessero di disertare la missione, esplode, quindi in questo modo li possono controllare a loro piacimento. Ogni volta che invece portano a casa la missione, gli verrà scontata parte della loro pena. Esattamente come era nel primo film, di cui questo film è un sequel a tutti gli effetti. Perché dicevano che è un reboot, che non è un sequel? Perché fondamentalmente c'è un cambio di regia, c'è un cambio di stile, ed è un cambio molto forte di regia, qua c'è una regia molto più autoriale, però è a tutti gli effetti un sequel del primo film, senza che sia necessario averlo visto, nel senso che si mantengono alcuni tra i personaggi principali, come Amanda Waller, come Harley Quinn, come il tenente o sergente, non lo so, il personaggio di Rick Flagg, e Captain Boomerang, sono gli stessi personaggi e gli stessi attori del primo film. Soprattutto Rick Flagg, ci tengo a dirlo, è lo stesso attore e lo stesso personaggio, perché ha avuto un cambio di look, quindi non ha più il capello corto, non ha più il pizzetto, ha il capello lungo quasi biondo, e soprattutto ha avuto un salto di qualità, il suo personaggio a livello di carisma, che quasi sembra un altro ruolo, in realtà è sempre lo stesso personaggio. Lo si può anche intuire dal fatto che c'è una sorta di amicizia, un'amicizia da commilitoni, tra lui e Harley Quinn, quella sviluppata nel primo film. Finalmente c'è un film sui cattivi, dove i cattivi sono davvero cattivi, cioè dove ammazzano senza ritegno, anche durante la missione, cosa che non si era vista molto nel primo film, dove tra l'altro ammazzavano fondamentalmente degli zombie, della gente comandata da questa strega. Qua invece si ammazza tranquillamente, si vede tranquillamente quello che succede quando si ammazza una persona brutalmente. Ovviamente, come lo dice il titolo stesso, ammazzano brutalmente e vengono anche ammazzati brutalmente. Con James Gunn su questo potete andare sul sicuro, potete giocare a un toto morti. Il film non solo è diretto da James Gunn, ma è anche scritto da James Gunn, quindi è tutta opera sua, e si vede che vuole dare, tra le cose che vuole dare nel suo taglio personalissimo, vuole un pochino mettere da parte i protagonisti assoluti del primo film per dare spazio a nuovi personaggi, ma soprattutto per raccontare una storia che ha un inizio, una parte centrale, una fine e sia una storia fatta davvero bene, con tanto di imprevisti, con tanto di trame e sottotrame che arricchiscono e danno un tocco di realtà a una storia così inverosimile altrimenti. A differenza del primo film, dove c'era semplicemente un elemento soprannaturale e nient'altro. Qui c'è un elemento soprannaturale, ma c'è anche un elemento urbano, c'è un elemento politico, c'è un elemento filogovernativo, dei loschi intrighi che ci sono, dei sotterfugi che ci sono, tirati da Amanda Waller, e tutto questo aiuta a dare un senso più, passatemi il termine, più profondo a questa pellicola. Se i protagonisti assoluti nel primo film erano Harley Quinn e Deadshot, interpretato da Will Smith, con una spruzzatina di storia d'amore tra Rick Flagg e l'incantatrice, qui Gunn incentra il ruolo principale sul personaggio di Bloodsport, che è fondamentalmente un nemico di Superman che ha le stesse capacità che aveva Deadshot nel primo film. Infatti è un ruolo che credo fosse stato pensato proprio per il personaggio di Deadshot. È un ruolo che calza benissimo al Deadshot che abbiamo visto nel primo film, anche nel rapporto padre-figlia che abbiamo visto tra Bloodsport e sua figlia. Sarebbe calzato benissimo tra Deadshot e la figlia che abbiamo visto nel primo film. Ma devo dire che questo ruolo dato a Idris Elba a me è piaciuto molto di più. Credo che il Deadshot di Will Smith con questa parte non sarebbe stato così bello, così potente come il Bloodsport di Idris Elba. Alla luce del fatto che comunque Will Smith aveva il bagaglio del primo film a cui dare una sorta di continuità, quindi con quel bagaglio non avrebbe reso il personaggio così bene come il Bloodsport di Idris Elba. Oltre a Idris Elba gli altri protagonisti sono Ratcatcher 2 che si chiamerà Ratcatcher 2 per tutto il tempo e nonostante Ratcatcher 1 non si veda e una sorta di rapporto sempre da commilitoni ma anche un rapporto padre-figlia tra Bloodsport e Ratcatcher dovuto anche alla loro rispettiva età. Ratcatcher è molto giovane, a Bloodsport ricorda sua figlia e viceversa diciamo Bloodsport diventa una sorta di figura paterna per Ratcatcher 2. Il tutto con una spruzzata qui non c'è tanto la storia d'amore tra Reed Flagg ma c'è una spruzzata di Peacemaker che è interpretato da un fantastico John Cena c'è una spruzzata di Polka Dot Man che è un personaggio molto interessante e ovviamente lo abbiamo adorato tutti già nei trailer di King Shark. È un King Shark molto diverso da quello che abbiamo visto finora non è assolutamente il King Shark di Flash della CW ha le stesse origini del King Shark del cartone animato Harley Quinn ma è molto più ingenuo molto più basico nelle sue interazioni sociali non è assolutamente un social media manager come nel cartone Harley Quinn è quasi allo stato brado è quasi allo stato animale ma è comunque il tenerone affamato che abbiamo visto nei trailer è un personaggio fantastico i protagonisti del primo film come appunto Rick Flagg Harley Quinn eccetera hanno una sorta di storia indipendente che poi si unirà alla trama principale però diciamo James Gunn sa la potenza dei personaggi del primo film soprattutto conosce la potenza di Harley Quinn e non l'ha voluta mettere da parte sia ben chiaro ma gli ha voluto dare una confezione una confezione tutta particolare e devo dire che anche Margot Robbie stessa per quanto sia brava nell'interpretare Harley Quinn e l'abbiamo vista già in altre due pellicole si vede quando oltre alla bravura dell'attrice c'è anche un regista che la sa dirigere al meglio qui vediamo un Harley Quinn come non l'abbiamo mai vista forse è un Harley Quinn cresciuta anche in base alle esperienze che ha avuto nei film precedenti ma che rende molto meglio quella che è la follia una follia di Harley Quinn che nei film precedenti si era espressa solamente nel suo rapporto di sudditanza verso il Joker qua invece vediamo la sua follia pura un'altra cosa molto bella di questa pellicola è che come dice il sottotitolo italiano stesso The Suicide Squad missione suicida è una missione noi guardiamo solo un'intera missione svolta da questo fantastico gruppo così come è stato nel primo film ma nel secondo film in questo anche dai trailer sembrava che ci fosse talmente tanta roba che avremmo visto chissà cosa è semplicemente una missione ma resa al meglio hanno mostrato tutte le sfaccettature tutti gli imprevisti di quello che può succedere durante un'operazione militare e tanto di cappello per aver reso un film così tra virgolette con un'ambientazione breve così intenso bene ragazzi non ci sto più dentro devo fare assolutamente spoiler quindi se ancora non avete visto la pellicola stoppate il video e ci rivediamo quando lo avete visto inizieranno gli spoiler tra 3 2 1 benvenuti nella parte spoiler allora James Gunn ce l'ha fatta o meglio si sapeva che James Gunn avrebbe sfornato un po' di omicidi anche tra i protagonisti ma devo dire che ci ha fatto davvero ritornare alla X-Force di Deadpool dove ogni membro della squadra muore malissimo qua il film inizia dal punto di vista di Savant che è interpretato da uno degli attori che ormai James Gunn usa di più che è Michael Rooker il film inizia proprio dal suo punto di vista lo vediamo nella cella che nella sua ora d'aria si diverte ad uccidere un uccellino che era entrato nella sua cella quindi vediamo subito diciamo la sua la sua follia e la sua bravura nel commettere omicidi mi è piaciuto subito il punto di vista di James Gunn su questo tipo di missioni nel modo in cui Savant che pare essere un personaggio davvero senza paura davvero che ne ha viste di tutti che non si fa scrupola uccidere un uccellino si caga sotto di fronte alla follia dei suoi compagni di squadra di fronte alla follia della missione che stanno per compiere al punto che quando si caga sotto poi Amanda Waller lo fa esplodere e vediamo questo cerchio che si chiude lui all'inizio ammazza un uccellino e alla fine della sua vita un uccellino si ciba dalle sue cervelle un tocco di classe tipicamente di James Gunn sarei stato curioso di vedere l'interpretazione di Pete Davidson un attore del Saturday Night Live interpretare Blackguard che è quello biondo che è uno di quelli che mora all'inizio ma purtroppo appunto James Gunn lo fa fuori subito fondamentalmente era una spia una spia del governo che dovevano andare a spodestare non ho capito se gli salta la faccia perché qualcuno gli spara o se è un'altra delle bombe innestate da Amanda Waller nel cervello però giudicare di come gli salta la faccia presumo sia stato un colpo di mortaio un colpo di pistola molto grosso con un gioco temporale di 10 minuti prima mezz'ora prima qualche giorno prima James Gunn non ci ha fatto capire nel trailer che alcuni personaggi fossero morti subito tra cui Weasel io avrei preferito vedere Weasel per un pochino più di tempo però ci sta c'è un solo personaggio digitale che è King Shark Weasel muore malissimo tra virgolette perché se avete visto la scena dopo i titoli di coda si sa che vabbè diciamo che viene subito tolto di mezzo dalla missione in un modo divertentissimo e mi è dispiaciuto anche vedere che il personaggio di Nathan Fillon durasse poco perché comunque è Nathan Fillon e avrei voluto vedere un pochino di questo personaggio assurdo per qualche minuto in più non dico per tanto è bello come il suo potere sia quello di staccarsi le braccia e comandarle a distanza ma che fondamentalmente andasse a prendere a sberle a mani nude delle persone piene di mitragliatori e questa è stata una delle cose più stupide che abbia mai visto e fantastiche abbiamo anche Javelin l'atleta tedesco quello che ha la capigliatura la sceme più scemo la Henry Dan di sceme più scemo è un javellotto enorme potentissimo che muore all'inizio stava quasi nascendo una liaisonza amorosa diciamo comunque di attrazione tra lui e Harley Quinn tant'è che quando muore gli dona questo fantastico javellotto che poi si è visto è stato utilissimo per sconfiggere Starrow anche il personaggio di Mongal viene ammazzato subito ecco forse era quella su cui puntavo di più perché si nota che manca anche nel trailer si nota che manca questo personaggio praticamente in tutto il trailer quindi avevo pensato che lei morisse subito non pensavo che morisse in un modo così stupido però è stato molto divertente vedere come un alieno o qualunque cosa sia se non sbaglio un alieno che non conosce le dinamiche della vita sulla terra afferri un elicottero e faccia più casino di quello che già non ci fosse tra l'altro uccidendo anche Cartan Boomerang è stato un tocco di classe per James Gunn tenere uno dei personaggi del primo film quindi anche senza fare il recasting è riuscito a convincere l'attore a fare Cartan Boomerang solo per la scena iniziale solo per farcelo morire all'inizio devo dire che è stato anche molto gentile a farlo morire male ma non malissimo ovvero lo abbiamo visto trafitto da migliaia di pezzi di legno che l'elicottero aveva tranciato in questa foresta ma inginocchiato guarda Harley Quinn come per dire vabbè è la mia ora ed è stato travolto dalle fiamme senza vedere teste spappolate o cose splatter che si dedicano a personaggi un pochino minori passatemi il termine spendo due parole sul personaggio di Polkadot Man l'uomo apua interpretato da David Dust Malchan scusate se lo pronuncio male un personaggio che i nerd non possono non conoscere lo abbiamo visto per la prima volta a fare una parte piccolissima in Batman il Cavaliere Oscuro quello di Nolan in cui faceva Thomas Chief qualcosa del genere uno scagnozzo del Joker poi lo abbiamo visto interpretare uno degli scagnozzi diciamo della banda di Ant-Man in Ant-Man e Ant-Man and the Wasp lo abbiamo visto interpretare abracadabra nella serie tv WCW di The Flash e qua lo vediamo a fare Polkadot Man ragazzi io non ho visto mai questo attore così perfetto come in questo ruolo negli altri ruoli non mi aveva mai convinto tantissimo soprattutto abracadabra nel ruolo di Ant-Man mi era piaciuto ma era comunque una macchietta anche qui è una macchietta ma è comunque protagonista mi è piaciuto tantissimo il suo modo pazzo di interpretare i personaggi e il fatto che lui vedesse sua madre che odia in tutte le persone che vuole uccidere o comunque in tutte le persone quando mostrano sua madre in ogni salsa con i vestiti della Suicide Squad in discoteca mentre balla circondato da sua madre alla fine Starro stesso è sua madre davvero tocco tocco di classe peccato che sia stato ammazzato pure lui da Starro lo avrei visto davvero volentieri in uno spin-off in un sequel nella serie su Peacemaker che ci sarà prossimamente su HBO mi sarebbe piaciuto peccato per una scena fantastica che è quella della sua morte ci siamo persi un personaggio così figo peccato ho nominato Peacemaker spendo due parole anche su di lui vabbè John Cena si vede che era gasatissimo per il ruolo al punto di andare su Red Carpet e alle interviste con il vestito di scena ma quello che mi ha stupito è stato il suo non volta faccia finale ma il fatto che lui avesse una sua missione una side mission che era quella di mantenere la pace mantenere la diplomazia tra questi paesi nascondendo le prove che coinvolgevano gli Stati Uniti d'America nell'operazione Starfish questa cosa è un tocco di classe fantastico che nel primo film ci sognavamo tutti questi retroscena politici chiamiamoli così hanno dato un tocco in più alla pellicola e soprattutto hanno arricchito il personaggio di Peacemaker che oltre a essere un coglione ma un bravissimo coglione nel suo lavoro l'ha fatto diventare anche un personaggio odiabile se non bastava ci si è messa anche la morte di Rick Flagg proprio per mano di Peacemaker Rick Flagg voleva che le cose si scoprissero perché comunque è un militare Rick Flagg a differenza degli altri e per non farlo parlare Peacemaker è arrivato a ucciderlo in una scazzottata per nulla acrobatica una scazzottata da bar dove ci si ammazza con dei pezzi di ceramica come ho detto Amanda Waller è più stronza che nel primo film o meglio nel primo film era solo annusato quanto fosse stronza qua lo vediamo lo vediamo a tutti gli effetti lo vediamo perché minaccia di morte fondamentalmente di ammazzare la figlia di Bloodsport in carcere per convincere Bloodsport a entrare nella squadra suicida vediamo appunto che ha affidato a Peacemaker questa missione in solitaria di cancellare tutti i dati che coinvolgevano gli Stati Uniti nel progetto Starfish è davvero una stronza la cosa che mi è piaciuta è che è stata circondata da una specie di staff che nel primo film praticamente era anonimo in questo film anche lo staff di Amanda Waller di impiegati di Amanda Waller ha una personalità li vediamo all'inizio a scommettere su chi muore nella squadra suicida quindi quasi una release comica attorno a questa figura così pesante che però ha avuto un senso ha avuto un senso alla fine del film perché abbiamo visto che hanno una coscienza e hanno deciso di diciamo togliere un attimino di mezzo a Amanda Waller quindi darle una botta in testa e aiutare i membri della Suicide Squad a sconfiggere Starro un tocco di classe che altrimenti non avrebbe fatto in modo che la missione sarebbe finita Amanda Waller avrebbe lasciato l'isola di Corto Maltese nelle mani di Starro la vera missione quello che a lei interessava era nascondere tutte le prove poi se Starro si mangiava tutta Corto Maltese non gliene fregava un cazzo probabilmente se ne sarebbe occupata la Justice League per quanto le riguardava ho parlato di Harley Quinn solo nella parte no spoiler volevo dire due cose innanzitutto Margot Robbie è fantastica è stata interpretata cioè Harley Quinn è stata interpretata al meglio sotto la regia di James Gunn la scena in cui si libera è come ha detto lei stessa come ha detto Margot Robbie stessa non è una controfigura è stata girata da lei quindi ha portato in scena le doti atletiche di Harley Quinn e la forza di Harley Quinn è una forza omicida che è stata fantastica anche la follia di Harley Quinn che se non sbaglio si riprende un po' da Birds of Prey quando inizia a sventrare ammazzare gente e al posto del sangue ci sono i petali i petali di fiori è stata una scena fantastica che petali di fiori e uccellini a cartone animati che mi ha ricordato un po' 500 giorni insieme o anche appunto Birds of Prey dove c'erano tutti questi uccellini attorno alla sua mente malata parlando di Birds of Prey il finale di Birds of Prey si conclude con Harley Quinn che fugge qua invece Harley Quinn è di nuovo in gattabuia lo spiegano subito all'inizio dicendo ah sì ho commesso un omicidio stradale in una banca e quindi mi hanno riarrestato quindi diciamo che James Gunn è stato ben attento ai dettagli quindi questo film è ambientato dopo Birds of Prey io sono sempre affascinato dalla doppiatrice Domitilla D'Amico che riesce a dare questo tipo di interpretazione a Harley Quinn e comunque un altro tipo di interpretazione a Vedova Nera perché Domitilla D'Amico è la voce anche di Scarlett Johansson in Vedova Nera e vedere come cambia mi piace sempre un sacco per quanto riguarda King Shark invece che in italiano è doppiato da Luca Ward mi piacerebbe rivedere la pellicola in inglese perché so che in lingua originale King Shark è doppiato niente po' di meno che da Sylvester Stallone ragazzi quindi quando uscirà in Blu-ray in DVD quello che è o su Netflix o che dirsi voglia me lo riguarderò anche in inglese non ho parlato di un altro cattivo che è The Thinker un altro personaggio che abbiamo visto in The Flash che The Flash ci ha aiutato a conoscere il personaggio qui è un personaggio molto depotenziato infatti non ha la sua sedia ha solo dei pistoni in testa ma senza la sua sedia da tinker è assolutamente depotenziato altrimenti avrebbe convinto le persone a fare cose anche mentre era in ostaggio della Suicide Squad quindi è molto umano come personaggio mi piace che lo abbiano usato mi piace che sia senza scrupoli non lo vedremo nei film di The Flash perché fa una bruttissima fine anche lui peccato interpretato da uno dei Dr. Wu Peter Capaldi ha reso benissimo il personaggio anche se devo dire l'avrei fatto un po' più serio invece segue un po' il mood di tutto il film l'avrei fatto un personaggio un po' più che stonasse rispetto agli altri essendo il pensatore cioè non l'avrei fatto così così cazzone anche lui però diciamo che in generale mi è piaciuto Dulcis in fundo mi sono tenuto Red Catcher 2 perché appunto è la protagonista del film insieme a Bloodsport il suo personaggio è reso benissimo è fondamentalmente è lì è in una cella di massima sicurezza per rapina mano armata laddove la mano armata erano i suoi ratti però si vede che è fondamentalmente una poveraccia una che è stata cresciuta da Red Catcher 1 che è suo padre interpretato nei flashback da Taika Waititi tra l'altro e quindi lei è Red Catcher 2 è la figlia di Red Catcher vediamo proprio che è giovane tant'è che John Cena gli dà l'appellativo a Millennials una che proprio è stanca non vuole non vuole alzarsi dal letto non si rende assolutamente conto del fatto che è in prigione che deve seguire delle regole se ne sbatte le balle ma un'altra cosa che mi piace della sua interpretazione di come hanno reso questo personaggio è il suo cuore è davvero una che parla proprio con il cuore in mano ha i sentimenti aperti non è ancora stata distrutta dalla vita a differenza di tutti gli altri che sono dei duri che hanno una scorza enorme e non si aprono con i propri compagni di squadra diciamo lei è quella che proprio ti dice quello che pensa e quello che senti e questo aiuta a creare questo rapporto padre figlia tra lei e Bloodsport ed è una delle cose più belle di questo film e tant'è che appunto le danno il ruolo più importante alla fine pare che siano proprio i ratti a sconfiggere Starro un po' inverosimile che non lo so io non me ne intendo se per caso di lavoro acchiappate i topi fatemelo sapere ma è possibile che ci siano così tanti ratti sull'isola di Cortomaltese erano davvero tanti avrei preferito più che altro che Polkadot Man avesse seriamente fatto del male a Starro dato che i suoi pua sono assurdamente potenti eppure lo hanno fatto fuori così fa niente ovviamente il colpo di grazia finale lo hanno fatto dare ad Harley Quinn perché se no si sa non sarebbe stato corretto diciamo per un personaggio così carismatico come Harley Quinn però fondamentalmente la situazione l'hanno salvata questa triade formata da Bloodsport Red Catcher e Harley Quinn col colpo di grazia finale James Gunn non ha sbagliato un colpo in questa pellicola se devo dire proprio solo una cosa che ho un po' sentito in questo film essendo comunque un film così cazzone così scansonato non lo so a un certo punto l'ho sentito un filino lungo nel guardarlo perché appunto ci sono talmente tanti dettagli talmente tante sottotrame che era film quasi troppo profondo troppo un po' lunghetto da gestire a una prima visione ma sicuramente sarà un film che si potrà apprezzare a una seconda una terza una quarta visione la regia di James Gunn mi è piaciuto un sacco tra le cose che ho apprezzato di più sono stati gli inserimenti del lettering diciamo all'interno della scena quindi quando vediamo che cosa andranno a fare quindi quale missione andranno a occuparsi lo vediamo scritto nel fuoco quando vediamo che c'è un'ambientazione di qualche minuto prima lo vediamo scritto nelle foglie lo vediamo scritto nei rottami non c'è una scritta in sovraimpressione che rovina la pellicola è tutto amalgamato perfettamente quindi complimenti complimenti tantissimi a chi ha dato a James Gunn questa cosa complimenti anche alla Disney che ha licenziato James Gunn per delle stronzate che poi hanno permesso di dargli la regia di questo fantastico film quindi noi ci vediamo con Guardiani della Galassia volume 3 se volete conoscere il passato di James Gunn che ha lavorato alla troma vabbè c'è Toxic Avengers che ho visto di recente ovviamente è un film di basso budget ma che vi fa capire perché c'è questo tipo di splatter in questo film e invece che vi suggerisco se siete amanti di Kick-Ass vi metto qua sotto in descrizione Superattento Crimine sempre diretto da James Gunn sempre molto splatter è la versione splatter di Kick-Ass quindi guardatelo ditemi cosa ne pensate io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui con il link in con l'inbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti